Un nuovo giornale online dedicato ai tifosi del Bari, presentato nel capologo pugliese il nuovo sito www.solobarinews.it il portale che offrirà informazioni, curiosità e anticipazioni su tutto ciò che riguarda la squadra biancorossa. Il sito realizzato dagli autori di www.solobari.it propone numerose sezioni con innovative e divertenti rubriche. I sostenitori dei galletti potranno così informarsi sulle statistiche e sulle formazioni della loro squadra del cuore, accedendo inoltre ad archivi storici e fotografici dedicati ai biancorossi. Tramite la web tv di www.solobarinews.it sarà possibile seguire tutti i servizi sul Bari, con interviste e approfondimenti. A cosa punta Solo Bari News? Come obiettivi? Obiettivi? Essere sempre presenti, cioè dare sempre informazione a 360 gradi a tutti quanti gli utenti che possono navigare. In primo momento navigare, poi come ci sarà anche la possibilità, e lo faremo verso l'inizio del campionato, far uscire una rivista che sarà un giornale di settimanale, di distribuzione gratuita, che immortalerà le cose più importanti che sono accadute in settimana e ci sarà la presentazione anche della prossima partita. Grazie. Grazie.